musica ragazzi accendo un attimo l'ativo vediamo cosa sta facendo ragazzi accendo un attimo l'ativo vediamo cosa sta facendo una notte di festa una notte di grande musica con gigi d'alessio e con l'amichevole partecipazione di mara non è possibile perché pure qui me lo voglio trovare gigi d'alessio ma perché in america non è meglio capodanno gigi d'alessio capodanno con gigi d'alessio stasera dalle 21 e 10 in diretta basta mi sei raviato il capodanno capodanno ma perchè non funziona perchè non cambia sto giusto faccio vedere il mio 10 9 6 5 3 2 1 1 1 1 2 1 Allora, allora, allora! Allora, ragazze, che dire, grazie dell'accoglienza, ancora buon anno e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie a tutti ancora. Io ho deciso di festeggiare il capodanno a casa mia, potevo festeggiare la casa di Alte. Finalmente ho finito. Sì, sì, comunque tu cosa fare a capodanno? No, vedrai io che casino combinerò, sparerò i migliori botte. Io, io avere paura, ma stai scherzando, poi vedrai. Ragazzi, anche questo video è terminato. Spero vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, un bel commento dove mi consigliate altri video che vi porterò in futuro. Iscrivetevi al canale, condividete questo video su Facebook oppure dove volete voi. Seguitemi anche su Instagram, mi scrivi il nome della PC qui sotto. E che dire, alla prossima e buon 2017. Ciao a tutti!